Tanta gente all'orientale per la Russa e Saccomanno, un tour stressante per l'ex ministro della difesa che è stremato, giunto a Brindisi, commette una piccola gaffa pensando di essere a Bari. Ma la gaffa è subito perdonata dalle centinaia di simpatizzanti accorsi nell'hotel cittadino per salutare fratelli d'Italia. A questo movimento la Russa ci tiene e vuole assolutamente che il simbolo sia visibile per far capire ai brindisini e agli italiani che la destra cede viva tanto che la domanda dei giornalisti sull'argomento risponde. Sempre nel centro-destra il nostro voto aumenta la probabilità che il centro-destra batta la sinistra in tutta Italia, ma è un altro centro-destra che vogliamo costruire. E' nato per questo fratelli d'Italia, per essere il seme di un centro-destra che sia libero, onesto e deciso e che dica senza tentennamenti mai più con la sinistra, mai più un governo tecnico come il governo Monti. Il leader nazionale di fratelli d'Italia sulla sua candidatura in Puglia afferma è un omaggio a Pinoccio Tattarella, a chi cioè ha inventato il centro-destra in Italia. La Puglia per me in particolare è un motivo di riconoscenza verso Pinoccio Tattarella che me l'ha fatta conoscere, me l'ha fatta amare e credo che l'avere io deciso di candidarmi, oltre che nella mia Milano e nella Sicilia dove sono nato solo in Puglia, l'accordo era di candidarsi in quasi tutte le circoscrizioni, Io invece ho fatto questa scelta proprio per omaggio a Pinoccio Tattarella che ha inventato il centro-destra e che oggi avrebbe, come noi, magari avrebbe fatto un'altra cosa, ma avrebbe deciso di rifondare un nuovo centro-destra come cercherà di fare. E tra il pubblico all'hotel orientale si intravedono volti nuovi e meno nuovi della destra brindisina. Ci sono Raffaele De Maria, Pino Specchia e Cesare Mevoli. Accanto alla russa è inevitabile la presenza del candidato quarto nella lista regionale di Fratelli d'Italia, Michele Saccomanno. Un impegno elettorale importante. A Brindisi la destra è stata sempre forte, il centro-destra ancora più forte. Io immagino che con questo nuovo movimento raccoglieremo i sentimenti di questa popolazione che tra l'altro in questo progetto di nuovo Parlamento si è vista sacrificata. Noi possiamo, con Fratelli d'Italia, ridare la speranza al territorio anche di una presenza parlamentare qualificata che si impegna al fianco di persone più giovani. È vero, ci sono dinanzi a me più giovani, ma sono orgoglioso. Mettiamo la nostra esperienza insieme con loro per vincere e andare insieme in Parlamento. Così si lavora, così si può far risorgere questa Puglia che è stato luogo di grandi ideali, di grandi obiettivi, di grandi capacità progettuali, come ha ricordato anche Ignazio Larussa. Io sono orgoglioso di partecipare ad un nuovo progetto che non solo è figlio di quel tatarella, ma è figlio dell'entusiasmo di tutta la terra pugliese. Ed infine Larussa, chi afferma che in Fratelli d'Italia abbiano trovato posto quasi esclusivamente gli uomini non voluti dal PDL, risponde. Io il posto nel PDL ce l'avevo, Giorgia Meloni il posto nel PDL ce l'aveva, Crosetto figurarsi, con lui è passato tutto il Piemonte in Fratelli d'Italia, potrei andare avanti uno dietro l'altro, non c'è dubbio su questo. Anzi, semmai è proprio il contrario, in Fratelli d'Italia sono venuti coloro che antepongono al comodo risultato la speranza che l'Italia possa di nuovo ripartire con un centrodestra vincente.